Con un taglio dei loro stipendi pari a 150.000 euro, i sette consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno donato 46.000 mascherine FFP2 ai 118 della Campania. Di queste, 7.000 sono quelle consegnate all'unità operativa dell'ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno. Nel loro tour regionale, i consiglieri regionali pentastellati, Valeria Ciarambino e Michele Cammarano, hanno fatto tappa, questo oggi in provincia di Salerno. La scelta dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle è ricaduta sulle unità operative dei 118 regionali, proprio perché queste rappresentano la prima linea nell'out al Covid-19. Il personale del 118 è quello che ha il più delle volte il primo contatto ravvicinato con i pazienti che accusano i sintomi del coronavirus e dunque sono quelli che hanno maggiormente bisogno di protezione. Dopo la consegna delle mascherine a Napoli, oggi è stata la volta di Salerno. Nei prossimi giorni saranno toccate le altre province campane. L'obiettivo è riuscire anche attraverso questa donazione a garantire sicurezza e protezione a chi è impegnato in prima linea sul fronte medico nella battaglia al Covid-19 che sarà ancora lunga e nella quale non saranno ammessi errori e distrazioni. Noi del Movimento 5 Stelle ci tagliamo lo stipendio volontariamente, si dal primo giorno in cui siamo entrati in Consiglio regionale abbiamo restituito ai cittadini della campagna ad oggi 710.000 euro. 150.000 euro di questi soldi abbiamo scelto di adoperarli per acquistare dispositivi di protezione rispetto a cui ci è stata segnalata sin da subito una forte carenza. carenza che purtroppo c'è ancora perché c'è continuamente bisogno, queste sono mascherine ad alta protezione ad uso proprio sanitario. Avremmo voluto donarle a tutti gli operatori della campagna, dovendo scegliere abbiamo scelto quella che rappresenta l'avanguardia, la prima linea nella lotta contro il coronavirus che è il 118. Quindi queste mascherine andranno a tutti i 118 della campagna, li stiamo distribuendo a tutte le ASL e andranno sia al personale dipendente che ai volontari che sono sulle ambulanze e che vanno appunto a fare i tamponi, vanno a prelevare le persone contagiate di Covid che ha bisogno di ricovero, quindi sono quelli che certamente vengono in contatto con i contagiati. Noi abbiamo proposto a tutta la politica regionale di approvare una nostra proposta di legge sul taglio degli stipendi, è una cosa che secondo noi va fatta sempre ma tanto più in questo momento di emergenza. Purtroppo la risposta che abbiamo ricevuto è che i politici regionali già fanno beneficenza, questa per noi non è beneficenza, questo è un dovere ed è un onore sapendo che i nostri stipendi, parte dei nostri stipendi si trasformano in protezione per chi oggi rischia la sua vita per salvare la nostra vita. Io non guardo la televisione da oltre dieci anni per una scelta personale, stamattina ho letto i giornali e chi si aspettava un match è rimasto deluso, ma d'altra parte credo che un match Nord-Sud sarebbe stato uno spettacolo indegno, in questo momento le istituzioni devono lavorare tutte insieme per la salvaguardia dei cittadini. Se posso dire soltanto una cosa, noi come Regione Campania oggi spendiamo 300 milioni di euro all'anno in emigrazione sanitaria passiva, siccome in Campania abbiamo liste d'attesa anche per interventi o per procedure di agnostiche fondamentali, penso a una mammografia enormi, le persone sono costrette a muoversi dalla nostra Regione e ad andarsi a curare fuori. Molte di questi 300 milioni vanno in Lombardia e in Veneto, allora io mi auguro che questa drammatica emergenza ci abbia insegnato qualcosa, ovvero che in Campania abbiamo delle eccellenze sanitarie in termini di professionalità, ma purtroppo abbiamo un'organizzazione sanitaria che non è all'altezza dei nostri professionisti. Bisognerà rimboccarsi le maniche e fare in modo che nessun campano sia costretto ad andarsi a curare fuori Regione.